come titolo Balsamus, l'uomo di Satana, e feci perdere 160 milioni secchi al Mr. X. Andai con un secondo titolo che era Thomas gli Indemoniati e lui ci diede 110 milioni. Stavo girando, anche quello che feci perdere, allora stavo girando questo film Thomas gli Indemoniati in una chiesa di Ferrara quando a un certo punto doveva arrivare un'attrice da Milano che avevo scelto, avevo fatto centinaia di provini, avevo fatto cento provini e arriva questa Milano e da Milano era una che aveva fatto la scuola del piccolo, era bionda, proprio azzurri, era praticamente una greschelli milanese e finalmente mi ha detto il regista, guarda che è arrivata la signora di Milano, mi farà venire? non fanno vedere, non l'ho raccontato mai, allora è arrivata questa qua, non era bionda, non l'aveva chiesto, era tutt'altro, non si è cambiata così tanto, era bruna, riccia, tutta truccata, come andavano allora il sandalono, poi Irene Pappas queste... ma chi è lei scusi? No, le volevo dire che la mia amica non è potuta venire ma mi ha dato me, si va a dire così, ma mi ha dato me a portare un pacco, non mi ha dato me a farla e ma anch'io faccio la scuola del piccolo, non c'entra niente, ho fatto cento provini, volevo quella allora mi scusi, mi dispiace, arrivederci, grazie, scusi se può uscire, no, 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 guardi, non si fa assolutamente così il meraviglio che lei abbia avuto l'impudenza, arrivederci, arrivederci, portatela fuori posso aspettare, ma quello vuole aspettare, aspetti perché le pare, però non qui dentro mi raccomando, arrivederci mi sento veramente ferito, è veramente una figura orrenda che riguarda il truppo, uno che rimanda un'altra a fare un'altra parte, tutto il giorno giriamo, girare, 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 e i miei aiuti registi continuano a dire guarda che nostra che è là fuori, sta seduta con un bar di fronte, non si muove, non si muove, ma come non si muove? non va via, a un certo punto, tad Buvio, chiudono i bar, chiudono il salginesco, spengono le insegne incantevano i tavolini e le seghi e anche noi finiamo di lavorare, quindi dobbiamo uscire da questa chiesa e usciamo e lei è rimasta là, ferma, così io dico, io sono un po' di buono fondamentalmente, io venga qua molto buono molto buono venga qui venga qui io voglio premiare questa sua costanza però sappia che domani mi aspetta una giornata molto dura perché lei non ha niente da spartire col personale quindi io glielo faccio fare questa è la parte e lei tremava lei va da provarsi i costumi vado in sartoria un urro getta e si infila dentro la macchina di produzione che la porta in sartoria la mattina dopo sul set la vedo lì la guarda con sufficienza stanno a vedere che c'è e poi proviamo giriamo non facciamo neanche le prove tanto so già che non va bene quindi giriamo tu dici questa battuta c'è questo vecchio attività bravissimo e lei risponde ottobre la nazione questa pinagorio mi è stato incendiato diceva solo a tutto quest'altra diceva questo monoroghetto che doveva dire e mentre diceva sto monoroghetto io sento che c'era improvvisamente scendeva come lo spirito santo sul set una infusione di verità cioè lei riusciva a portare dentro il mio cinema la verità e io mi diceva c'è un po' di brividi ma io provai veramente un brividi e alla fine di questa cosa ci fu l'applauso di un altro ma non le vedessi ma era appena volta che ho provato una cosa di questo genere con un attore ma lei chi è? come si chiama? Maria Angela Melati grazie